Devo dire che è la prima volta che mi capita di fare un video praticamente su commissione. Quello che è successo è che un paio di giorni fa è venuto da me in studio un cliente chiedendomi di spiegargli per filo e per segno un determinato procedimento. Ma appena mi ha detto di che procedimento si trattava ho pensato che la stessa cosa poteva essere molto utile anche a te. E allora perché non fare un video per tutti quanti? Ed eccoci qui. Oggi che cosa vedremo? Vedremo il modo corretto per diagnosticare la presenza di un virus, di un malware o di un trojan sul nostro computer, ma di farlo senza usare strumenti esterni di tipo antivirus e antimalware. Perché questa cosa? Perché nel momento in cui questi strumenti falliscono noi normalmente rimaniamo completamente disarmati contro queste minacce. Invece come scoprirai a breve è davvero molto semplice anche senza usare questo tipo di software andare a rimuovere i virus. La procedura che mi ha mostrato il mio cliente era una procedura che aveva trovato su internet ma che purtroppo aveva una grossa falla e anche questa la vedremo insieme. Quindi mettiamoci sotto ed andiamo a vedere la procedura corretta. Ti senti pronto? Iniziamo! Ormai un po' hai imparato a conoscermi e sai che sono una persona abbastanza pratica. Nei nostri video andiamo sempre al sodo ma in questo caso ritengo che siano indispensabili 30 secondi di teoria. Qualsiasi programma venga avviato sul nostro computer, compresi i virus, naturalmente è un programma eseguibile. E noi normalmente abbiamo uno strumento che abbiamo visto già tante volte come utilizzare che ci fa vedere tutto quello che è in esecuzione sul nostro computer. Ebbene questo strumento si chiama Task Manager e normalmente noi andiamo ad aprirlo con la combinazione di tasti CTRL, SHIFT ed ESC. Eccolo qui il Task Manager. Come vedi ci mostra tutti quanti i processi che ci sono in questo momento in esecuzione sul nostro computer. Ma attenzione ad un dettaglio. Questo è il modo in cui nel nostro immaginario collettivo pensiamo ad un hacker mascherato. E questo perché per lui è importantissimo non essere individuato quando entra sul nostro computer ed è una vittoria nel momento in cui riesce a nascondersi. Ed è proprio per questo motivo che spesso per non essere individuati mettono in atto una procedura che si chiama troianizzazione. In che cosa consiste la troianizzazione? Nell'alterazione dei nostri strumenti di sistema facendo sì che questi non siano più in grado di mostrare i processi infetti. Per cui se il nostro Task Manager viene troianizzato non ci sarà più nessuna possibilità per noi di utilizzarlo per individuare l'eventuale presenza di virus. Ma allora come si fa? Per ovviare a questo problema che poi era il grosso difetto del sistema di cui mi aveva parlato il mio cliente si procede semplicemente in questo modo. Ci basterà procurarci un pendrive e non importa di quali dimensioni perché andremo ad utilizzare due strumenti davvero minuscoli. Aprire come sempre il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare gentiluomo digitale. Effettuiamo la ricerca e come sempre il primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomo digitale.it sarà quello che ci interessa. Quindi facciamoci clic su e nel sito che si apre portiamoci nella sezione downloads. Scendiamo un pochino più in basso e troveremo i due tool che ci interessano che sono rispettivamente process explorer, questo qui, e tcpview, questo qui. Per scaricarli andiamo a fare clic sul pulsante azzurro sotto ciascuno dei due, uno e due, ed ecco che i nostri file vengono scaricati sul pc. Quello che dovremo fare a questo punto sarà questo. Andiamo a fare doppio clic sul primo dei due file, rimpiccioliamo il browser senza chiuderlo perché ci servirà per aprire il secondo file e trasciniamo il file tcpview64 se abbiamo una macchina a 64 bit oppure il file tcpview se abbiamo una macchina a 32 bit sul nostro desktop. Io in questo caso porto il file tcpview perché ho una macchina a 64 bit. Se sei indeciso e non sai che tipo di macchina hai, il file tcpview andrà bene comunque in ogni caso. Chiudiamo questa prima cartella e andiamo ad aprire il secondo file che abbiamo scaricato, quindi process explorer. Facciamo un doppio clic e anche in questo caso vale la medesima raccomandazione. Se abbiamo una macchina a 64 bit trasporteremo il file processp64. Viceversa, se abbiamo una macchina a 32 bit o non siamo sicuri della macchina, trasporteremo il file processp. In questo caso prendo il file a 64 bit e lo sposto sul mio desktop. Chiudiamo la cartella e chiudiamo il browser e andiamo a vedere come utilizzare questi tool interessantissimi. Non volendo andare ad infettare realmente la mia macchina virtuale, quello che ho fatto è stato installare un programma legittimo che per certi versi si comporta un pochino come un virus. Perché a questo punto prima di proseguire dobbiamo fare un attimo mente locale su quello che stiamo andando a cercare, cioè come si comporta un virus. Solitamente ruba le nostre risorse di sistema, rallenta la nostra macchina e spesso e volentieri fa uscire dei nostri dati. Quindi va a stabilire delle connessioni internet. Ebbene, questi sono esattamente i sintomi che andremo a cercare con il primo di questi due programmi, che ci porteranno probabilmente a sospettare del file che ho appunto installato. Andiamo quindi ad aprire ProSeXP64 o ProSeXP se hai una macchina a 32 bit, lo ripeto, con questa icona qui. Quindi ci facciamo doppio clic e vediamo che si aprirà una schermata che a prima vista può sembrare piuttosto allarmante. La prima cosa che ti consiglio di fare appena apri il programma è andare qui nelle opzioni, nella terza voce quella che dice virustotal.com e andare a mettere un segno di spunta sulla voce che dice checkvirustotal.com. Come vedi compariranno una serie di scritte qui sotto, hash submitted, nella sezione Virustotal. Che cosa ha fatto in questo momento ProSeXP? Ha preso tutti quanti i processi che sono in esecuzione sulla nostra macchina e li ha mandati a Virustotal perché li analizzasse. E Virustotal ha analizzato un buon 90% se non di più dei nostri processi restituendoci il relativo risponso da parte dei suoi antivirus. Vediamo che ad esempio su questo processo due antivirus su 74 hanno risposto positivamente e su quest'altro processo uno su 75 ha risposto positivamente. E questo è già un primo motivo per cui dobbiamo andare ad insospettirci di questi file, anche se non dobbiamo certo allarmarci con un risponso di questo genere perché è come se avessimo chiesto a 75 persone dove si trova la stazione e 74 ci avessero detto che è di là e una sola dall'altra parte. Naturalmente seguiremo quello che ci hanno detto la maggior parte delle persone quindi Virustotal lo ripeto va usato con criterio. Infatti come ti ho premesso non ci sono realmente file infetti sulla mia macchina. Ma andiamo a vedere. Se scegliamo questo primo file, quello che è riportato come positivo da due antivirus su 74 vediamo che si tratta del programma mousehighlight.exe che altro non è se non il programma che mi consente di far venire fuori il cerchiolino sul mouse. Quindi se noi conosciamo il programma, lo abbiamo lanciato noi, ci sono sicuramente meno motivi per sospettarne. Il secondo programma invece è Filezilla Server e questo qui è stato individuato come potenziale minaccia da un antivirus su 75. Perché? In realtà questo è il mio falso virus che io ho messo qui a scopo dimostrativo. Non si tratta altro che di un programma che fa da server FTP, cioè serve a far scaricare ad altre persone i file che ho sulla mia macchina. Ma è quello che normalmente fanno ad esempio i malware che rubano i nostri dati, quindi stabiliscono connessioni verso l'esterno. E se appuriamo che uno di questi programmi è infetto, come dobbiamo muoverci? La prima cosa da fare per toglierci ogni dubbio è sicuramente quella di fare doppio clic su questa scritta qui, quella relativa alla individuazione di VirusTotal. Se facciamo infatti questo doppio clic succederanno ben due cose. La prima che possiamo vedere è che si aprirà una finestra relativa a questo processo che ci sarà utile tra un attimo, ma la seconda cosa che capiterà è che si aprirà automaticamente il nostro browser e se ci clicchiamo su vedremo il rapporto dettagliato da parte di VirusTotal. In questo caso abbiamo detto che è un rapporto relativamente interessante, ma continuiamo a far finta che si tratti di un virus e andiamo a vedere come agire. Naturalmente la prima cosa che vorremmo fare sarà quella di mettere in condizione di non fare più danni questo virus. Quindi di conseguenza andremo a terminare il processo. Per farlo dovremo fare click su questo pulsante Kill Process che andrà ad abbattere il processo. Confermiamo di voler chiudere il processo e come vedi viene terminato e scompare. Naturalmente sarà sempre opportuno dare un'occhiata sul lato sinistro per vedere che il processo non si riproponga. La seconda cosa che poi dobbiamo fare sarà quella di andare a cliccare su questo pulsantino qui, Explore, perché nel momento in cui cliccheremo su Explore si aprirà la finestra che contiene il file eseguibile di questo processo che verrà evidenziato, come in questo caso, e potremo andare a cancellarlo definitivamente in modo tale che non venga più lanciato sulla nostra macchina. Quindi andiamo a fare un click con il pulsante destro del mouse e clicchiamo sull'icona del cestino per andare ad eliminare definitivamente questo processo. Naturalmente c'è anche la possibilità che questo non sia l'unico processo infetto sul tuo computer. In questo caso dovrai andare a cercare con attenzione tutti quanti i processi che ti sembreranno sospetti e soprattutto quelli che non vai a riconoscere a prima vista sul lato sinistro andando ad investigare nel caso di eventuali dubbi facendo doppio clic sulla parte destra in corrispondenza della colonnina VirusTotal. Fatto questo andiamo a chiudere questo programma, chiudiamo anche il browser che non ci serve più, ed andiamo a vedere rapidamente anche il secondo programma che abbiamo appena scaricato. Prima di farlo però una nota importante che ho dimenticato di segnalarvi. Quando vai ad aprire ProseXP una buona norma imporrebbe di farlo non con il doppio clic, come ti ho detto poc'anzi, ma facendo un clic con il pulsante destro e scegliendo sempre la voce Esegui come amministratore. Questa cosa non sarà necessario invece nel caso del secondo programma TCP View 64 perché come vedi c'è questa iconcina a forma di scudo che implica il fatto che quando ci facciamo doppio clic comparirà il nostro amico controllo account utente che ci chiederà di elevare ai privilegi amministrativi cliccando su sì l'utilizzo di questo programma. Ed eccolo qui. Il programma TCP View serve a sostituire il comando di sistema NETSTAT-NOA. Ma che cosa fa il comando di sistema NETSTAT-NOA? Va semplicemente a verificare tutte quante le connessioni attive sul nostro computer. Quindi sostanzialmente va a verificare se il nostro computer sta comunicando dati verso l'esterno oppure ricevendo dati dall'esterno. Ma soprattutto va a vedere con chi sta comunicando questi dati. Andare a verificarlo è veramente molto semplice perché quello che ci interessa di questo programma è l'ordinamento per stato. Infatti noi dobbiamo andare a filtrare solo ed esclusivamente le connessioni attive. Per farlo facciamo clic su state e andremo a cercare nella relativa colonna solo le connessioni con la voce established. Quindi cosa sta succedendo in questo momento sul nostro computer? Abbiamo visto che il responsabile di questa connessione è il file svcoost.exe. Questo lo vediamo nella colonna processname. Il file svcoost.exe è l'unico ad avere al momento una connessione attiva. Se noi siamo insospettiti da questo dobbiamo andare semplicemente a fare riferimento al programma precedente. Quindi andremo nuovamente a riaprire ProseXP, questa volta facciamolo per bene eseguendolo come amministratore, e andiamo ad investigare svcoost che come puoi vedere ha un'attività molto intensa non solo sul mio computer ma su tutti quanti i computer. Se abbiamo qualche dubbio sulla liceità del programma un primo indizio lo riceviamo dal fatto che ci siano 0 su 75 antivirus che su virus total lo marcano come potenziale problema ma soprattutto quello che ci basterà fare sarà andare a fare un click con il pulsante destro del mouse sul nome del file e scegliere la voce Search Online, l'ultima voce del menu che si aprirà. Se ci facciamo infatti click andiamo a vedere che si aprirà nuovamente il nostro browser e ci verrà spiegato da una serie di siti di settore che cos'è questo processo e a che cosa serve. Naturalmente questo non vale solo per svcoost ma letteralmente per qualunque file tu possa trovare sul tuo computer eccetto quelli infetti. Normalmente sui file infetti infatti non riuscirai a trovare informazioni oppure nel migliore dei casi troverai dei siti che ti spiegano che si tratta effettivamente di un file infetto. Quindi ricapitolando con questi due programmi potrai tenere sotto controllo il 99 per cento di quello che succede sul tuo sistema. Abbiamo visto che con il primo Pro6 XP potrai individuare i processi infetti potrai terminarli e potrai cancellarli dando quindi termine all'infezione. E se qualcosa ti fosse sfuggito con il secondo programma TCP View avrai la possibilità di controllare tutto ciò che entra e tutto ciò che esce dal tuo computer avendo la relativa certezza di essere al sicuro. E tutto questo in modo molto semplice senza considerare un altro aspetto. Questi due programmi sono di fatto dei programmi Microsoft. Infatti l'azienda che li produce si chiama SIS Internals che altro non è se non una costola di Microsoft stessa. E detto questo siamo arrivati quasi al termine del nostro video perché prima di chiudere devo assolutamente ringraziare Rocco Andrea per essersi abbonato al canale. Grazie Rocco, benvenuto tra noi. Ed ora come sempre nel ringraziarti per la visione di questo video non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.